Musica Solo 15 milioni di euro di progetti finanziati. Se il 17esimo elenco dovesse uscire ora, questa sarebbe l'attuale situazione. Non 100 milioni di euro, come si era prefisso l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila Pietro di Stefano, lontanissimi dagli 800 milioni che si erano addirittura richiesti. Non siamo in condizioni di fare uscire un elenco corposo, perché è sempre il sogno, mancano i progetti ad andare a finanziamento. Paradosalmente i soldi ci sono, però non si riesce a far completare l'idere dei progetti, perché sono incompleti, perché non integrano, perché a volte dimenticano di mettere delle cose. Insomma, siamo al paradosso, io credo che la si debba smettere di giocare a Penelope e Ulisse, nel senso che per Ulisse chi fa la tela e chi la disfa durante la notte. Non è possibile, questa è una città che va ricostruita, abbiamo fatto battaglie per avere i fondi, adesso io non accetto, assolutamente non accetto questo tipo di ritardi, questo tipo di superficialità. Sono decisa ad andare fino in fondo. Così si pensa addirittura ad una delibera di giunta che renda impossibile presentare progetti incompleti. I tecnici spesso li depositano comunque, allungando di molto i tempi. Una situazione di stallo, questa che di Stefano per la verità, va denunciando da mesi, tant'è che ha chiesto anche ai suoi uffici una ricognizione più precisa. La responsabilità è di coloro che presentano i progetti, è il titolare del contributo. Noi abbiamo scelto una strada che è quella dell'indennizzo, il titolare è il cittadino, è il cittadino che si deve rendere responsabile attraverso tutti gli attori di quel progetto. Il rischio di perdere i fondi infatti in un momento in cui sul territorio c'è un'altra emergenza in corso, il terremoto di Amatrice, è più che concreto. Non quelli ovviamente che il comune ha già in cassetto, ma potrebbe darsi che il Cipe decida di assegnare all'Aquila sempre meno fondi. Un'altra soluzione, spiega Di Stefano, potrebbe essere quella di commissariare non solo i cantieri e le pratiche ferme, ma anche quelle che procedono con eccessiva lentezza. Ci sono strumenti di commissariamento per gli aggregati e i consorsi non costituiti ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con l'albo dei commissari. Chiedo all'USRA di un provvedimento che mi dia la possibilità di commissariare anche quelli che vanno lenti, quelli che non camminano. Ancora di più, se abbiamo dato il contributo, quel contributo sta in banca e non viene speso. Un luogo dove incontrarsi, un palcoscenico dove esprimersi e mettersi in gioco. Questo propone il progetto Piazze d'Arti, diamoci da fare, che prende il via all'Aquila fino al giugno 2017, a cura dell'Associazione Teatrabile, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I laboratori teatrali e artistici saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni e in particolare agli utenti dei centri diurni psichiatrici e ai loro familiari. Questo progetto mette insieme arte e cultura, quindi promozione artistica e promozione culturale per anche l'animazione del territorio, a chi è destinato, a dei ragazzi, ma contemporaneamente anche ai loro accompagnatori e ai loro genitori, ai ragazzi, quindi a tutti i ragazzi, anche quelli del mondo della disabilità, dello svantaggio sociale, cosa si propone, delle attività culturali pratiche, quindi laboratori pratici, teatrali, che immediatamente portano anche a delle uscite pubbliche per l'animazione del territorio, quindi nei luoghi della città. Lo scopo è quello di conciliare gli spazi di vita con gli spazi di lavoro, perché esistono molte iniziative per i ragazzi, ma non esistono invece per i genitori che non hanno dei momenti di inconfronto e di crescita vera. Quindi noi vogliamo accumulare queste attività parallele per dare la possibilità di implementare le competenze genitoriali e anche creare una rete dei genitori che li possa appunto sostenere e accompagnare nel loro percorso. Un grandissimo successo nei giorni scorsi a Civita Tomassa, frazione del popoloso comune di Scopito a due passi dall'Aquila, per la prima edizione del Wine Foruli. Nell'antico borgo di Foruli, all'imbrunire, cantine aperte negli angoli più suggestivi del paese, con degustazioni di vini, artisti di strada e stand. Una festa del buon vino che ha portato a Civita Tomassa moltissime persone. Un percorso del gusto nei vicoli dell'antico borgo, un modo per rivitalizzare il paese, con iniziative importanti che restituiscono al visitatore la bellezza di borghi ancora poco conosciuti, seppur molto importanti, nella storia cittadina. Civita Tomassa, infatti, nasce sui resti dell'antica Foruli, vicus romano dipendente all'epoca da Amiternum, un borgo che, molti non sanno, concorse con altri castelli alla fondazione dell'Aquila nel 1254. L'importanza delle tradizioni e della conoscenza, che grazie agli organizzatori del Wine Foruli, ha permesso a molte persone, anche turisti, di conoscere e apprezzare alcune frazioni del territorio aquilano. Diverse le cantine che hanno partecipato all'evento, che ha portato le degustazioni in paese, in una passeggiata all'insegna del buon vino e dei prodotti tipici locali. Diverse le cantine che hanno partecipato all'evento,